Ciao a tutti! Siamo Capri, ed in questo momento stiamo camminando lungo la Via Tragarà. Hi everybody! We are in Capri, in Italy, and at this moment we are walking along Tragarà Street, or, in Italian language, Via Tragarà. Via Tragarà è un'elegante passeggiata che ti porta ad una delle migliori viste di Capri, il Belvedere Tragarà. Via Tragarà is an elegant walk that takes you to one of the best views of Capri, the Belvedere Tragarà. Il Belvedere Tragarà è uno dei punti più frequentati di Capri, perché è un buon punto di osservazione per ammirare i famosi faraglioni di Capri. Dista pochi minuti a piedi dalla piazzetta di Capri e l'accesso è gratuito! Il Belvedere Tragarà è un luogo romantico e di relax, ma è anche un buon punto di partenza. Il Belvedere Tragarà è un luogo romantico e di relax, perché qui ti puoi sedere sulle panchine rivolte direttamente verso il mare, e goderti il panorama in tranquillità. Il Belvedere Tragarà è un luogo romantico e rilassante, perché puoi sentire sulle banche, direttamente verso il lato e divertire la vista in pazienza. Abbiamo detto che il Belvedere Tragarà è anche meta per chi ama l'avventura, infatti da qui puoi intraprendere diversi percorsi, come puoi vedere nelle immagini. Per esempio, dal Belvedere Tragarà puoi scendere le scale o seguire la via in discesa per intraprendere la via Pizzolungo. For example, from Belvedere Tragarà, you can go down the stairs or follow the downhill road to take the via Pizzolungo. Via Pizzolungo sembra un proseguo naturale di via Tragarà, ma è diversa. Se vuoi percorrerla, ti consiglio di indossare scarpe comode, adatte a camminare, in quanto è abbastanza lunga ed è più simile ad un sentiero che ad una delle vie del centro di Capri. Se vuoi volerlo, ti consiglio di fare con le conoscenze comune quali quali per lavorare, perché è molto lunga ed è più come una palla di una delle vie del centro di Capri. Non è più lunga, ma è più lunga. Vorrei specificare che in Google Maps il primo tratto di via Pizzolungo è segnato come il continuo di via Tragara invece che riportare correttamente via Pizzolungo ma non è molto importante perché quello che interessa a noi è dove ci conduce I want to specify that in Google Maps the first stretch of via Pizzolungo is marked as the continuation of via Tragara instead of correctly reporting via Pizzolungo but it is not very important because what interests us is where it leads us iscriviti al nostro canale Facile da raggiungere e abbastanza vicino è il Belvedere del Pizzolungo uno spettacolare balconcino che si affaccia sui faraglioni e sullo stabilimento balneare da Luigi ai faraglioni Easy to reach and close enough is the Belvedere del Pizzolungo questo è uno dei miei punti preferiti per vedere i faraglioni di Capri questo è uno dei miei punti preferiti per vedere i faraglioni di Capri la via Pizzolungo continua the via Pizzolungo continues ma la vedremo in un'altra avventura ciao ed al prossimo video but we'll see it in another adventure bye and see you in the next video ciao e al prossimo video ciao 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 ciao